Un maggior numero di bit equivale ad una migliore risoluzione. È davvero così? Lo vediamo in questo breve video. Tra i vari miti che popolano il settore della produzione audio, ce n'è uno che merita una particolare attenzione, ossia che una maggiore profondità di bit, quindi un maggior numero di bit, equivalga ad una migliore risoluzione, una migliore definizione audio. Per cui che 24 bit suonino meglio di 16 bit e che 16 bit suonino meglio di 8 bit. Questo credere è indotto dal fatto che intuitivamente si è portati a pensare che, avendo un maggior numero di bit, si ottenga una rappresentazione migliore dei dettagli del segnale. Ma questo non è corretto. Infatti, la vera differenza è che un file con un maggior numero di bit ha solo un rumore di fondo minore. Allo stesso tempo, se si riduce un numero di bit di un file e lo si fa in modo opportuno, tutto ciò che si ottiene in differenza è un rumore di fondo più alto. In questo video vi mostrerò il tutto ed anche cosa intendo per ridurre i bit in modo opportuno. Userò una traccia di un master da me prodotto, la cover di Caruso, cantata da Alicia Fox. È sui mercati digitali ed il link lo trovate qui sotto in descrizione. Ho qui le due tracce a 24 e 8 bit. Mentre è in play, commuterò tra le due per farvi sentire le differenze. In questo video vi mostrerò il nostro canale, quello che sentite è l'aumento del rumore di fondo. Il file a 8 bit la più alto. Verifichiamo ora quali sono le differenze tra i due files tramite un null test. Inverto la polarità di una traccia e mando in play. Tutto ciò che si sente è il rumore di fondo. Ciò in quanto nel null test, invertendo la polarità di un file e sommandolo all'altro, quello che si cancella sono tutte le parti identiche e rimane solo la differenza. La musica, quindi, del file a 24 bit è identica a quella del file da 8 bit e tutto ciò che rimane è il rumore di fondo. Se vi fossero dei dettagli audio persi, si sarebbero sentiti, ma non ci sono. Per cui, in termini di risoluzione, i due files sono identici. La risoluzione non dipende dal numero di bit. Un file a 24 bit è identico ad uno da 8. Dal bit scope che ho qui, visualmente possiamo renderci conto di quanto sopra. Abbiamo sentito quindi soltanto il rumore di fondo. Come ho detto all'inizio, lo si ottiene solo se si esporta il file in modo opportuno. Cosa vuol dire? Vuol dire se si aggiunge del dither, ossia si aggiunge artificialmente del rumore prima di esportare il file ad un numero costante di bit, 24 o 16 o 8 che sia. Il dither rende casuale l'errore di quantizzazione, garantendo di perdere soltanto del rapporto segnale-rumore e non i dati utili, quelli musicali. Vi mostro ora cosa succede non utilizzando il dither. Ho qui una traccia esportata ad 8 bit senza dither. Ascoltatela. E' chiaramente distorta. E solo in questo caso si è persa della risoluzione del file. Ma solo perché l'export non è stato fatto correttamente. E' stato fatto senza dither. Ora ne faccio il null. Ne si sentono tutti i difetti. Attenzione, il dithering non va usato quando si cambia il campionamento, ma solo quando si cambia la quantizzazione, ossia il numero di bit, da virgola mobile a valore fisso, ad esempio da 32 o 64 bit float a 24 bit o a 16 bit, e quando si scende in quantizzazione, ad esempio da 24 bit a 16 bit. Ricapitoliamo quindi. Un file audio con un alto numero di bit non ha una maggiore definizione audio, ha solo un minore rumore. Quando si esporta il file definitivamente a 24 o 16 bit, si deve aggiungere il dither. Non si deve aggiungere alcun dither quando si cambia la frequenza di campionamento o si esporta in virgola mobile. Spero sia stato utile. Spero abbiate imparato qualcosa. Grazie per avermi seguito.